Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Yannick Simmer si ama, questo messaggio è per te Yannick, complimenti, sono qui per farti ufficialmente, pubblicamente, l'invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente c'è la grande gioia di vederti a Sanremo, non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston, è un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Yannick, quando vuoi, in una delle 5 serie, lo so che è insolito un invito come dire pubblico, beh, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Yannick, sei il numero uno.